Buongiorno. Buongiorno. È figlio suo? Ma quando mai, no? È il figlio di una mia amica. Io ogni tanto io lo guardo, ma così, per cortesia. Per fare un'opera di bene. Peppino, perché non ti vai a comprare un gelato? E con quali soldi? Tu avevi detto che non tenevi una lira. Ma piove? Va, va. Così ti fai grandi corpi. Io mi chiamo Arturo. Ragazzo del futuro. Eh? No, no, niente. Era una reclame. Non è la prima volta che la vedo qua, sa? Veramente. Hai pure abito qua vicino? Io? No, da tutta altra parte. Perché lo volete sapere? No, no, così. Era per rivederla ancora. Vabbè, tanto ci incontriamo qui, no? Sì, ho una scusa per venirla a cercare. Ma te lo vuoi togliere, sto peppotto? No, è così bello. Rosato, come ti sembra? È un bravo ragazzo. E poi si vede, ti vuole bello. Mi mette una paura. Perché? Eh, chi ci è abituata a stare così? A tutta sta felicità? E il bagno con l'altro? Non mi trovo. E che piano? Il quarto. Ma a momenti, non lascio in su. Ho! Grazie. Grazie.